Matteo Monti, tecnico della scuola calcio Sanniti, stiamo vivendo un momento delicato che sicuramente finirà sui libri di storia, sei d'accordo? Stiamo vivendo una situazione, un momento delicatissimo, credo che sia difficile anche commentarlo, speriamo che finisca presto, speriamo che tutti insieme riusciremo a prenderne fuori, siamo un popolo che nel momento di difficoltà ha sempre avuto la forza di reagire e tornare più forti di prima. Il mio pensiero va a tutte le persone, sia in Italia che in tutto il mondo, che stanno male, a tutte le persone che hanno perso i propri cari, a tutte le persone che lavorano quotidianamente senza sosta per dare una mano a chi sta male e anche a tutte le persone che quotidianamente ti svegliano la mattina, rischiano la loro vita per non farci mancare i beni di prima necessità. Avete interrotto come tutti l'attività sportiva con la scuola calcio, sarà difficile ripartire a tuo avviso? Sì, credo che stoppare tutti i campionati sia la cosa più giusta da fare, vedo ancora che se ne parla anche in Serie A, però credo che interrompere tutte le attività sia la cosa più giusta. L'importante è la salute, l'importante è il bene di tutti noi stessi e l'importante credo che per ripartire ci voglia una situazione bella chiara, è una situazione che non compromette la salute di nessuno. Cambiano le abitudini di tutti, grandi e bambini. Cosa avete consigliato ai vostri piccoli atleti? Sicuramente c'è stato un cambiamento di vita e un cambiamento di condividere le giornate, di vivere le giornate quotidiane. Ecco, questo sicuramente facciamo fatica, però se la cosa giusta da fare va rispettata, va fatta in pieno. Ecco, quindi il mio appello è di stare a casa, di condividere le cose importanti che tante volte tralasciamo per la vita frettolosa che conduciamo, con la famiglia, di riscoprire valori veri, di leggersi un libro, di fare una chiacchierata con mamma e papà, con chi ha i fratelli e sorelle, e magari fare anche qualche videochiamata con qualche amico che non si sente da parecchio tempo. Ecco, quindi ci sono le cose da fare belle che certe volte non abbiamo il tempo di fare. E i miei ragazzi, che dire, lo so che è difficile stare a casa e non fare quello che ci piace fare, ecco. Però se serve per salvare tutti noi e salvare tantissime altre persone, va fatto. Va fatto e con l'augurio che poi sicuramente torneremo nei campi di calcio a gioire, a farci tantissime risate, ma torneremo nelle piazze a incontrarci, a ribbracciarci tutti insieme e farci una bella risata tutti insieme. Ecco, questo è il mio augurio e quindi restate a casa e cercate soprattutto di passare dei momenti belli con la famiglia e, come ripetevo, anche di condividere questi momenti difficili con altre persone che volete bene. Il bilancio della vostra stagione è ampiamente positivo, è così? Ma il bilancio della stagione è sicuramente positivo, è un bilancio che ci gratifica, un bilancio che non è che ci riempie, ecco, che ci si adagia. Andiamo sempre, siamo sempre sul pezzo, cerchiamo sempre di migliorarci. Dobbiamo tanto migliorarci perché non si può mai sentire arrivati, soprattutto quando si lavora con i bambini, soprattutto quando cominci ad avere dei numeri importanti, quindi bisogna sempre stare sul pezzo, ecco. E lo stiamo facendo bene, la società non ci fa mancare niente. Io la chiamo società ma è come se fosse una grande famiglia composta da tante persone che ci mettono il cuore, da tante persone che sono innanzitutto umili e tante persone che sono preparate e si aggiornano quotidianamente. Ecco, questo è una cosa che ci tengo a dire. Se si migliora è merito di tutti quanti, ecco. Quindi merito nostro ma merito anche soprattutto dei ragazzi perché loro sono una cosa più importante.